Buongiorno a tutti, avrò due moderatori oggi credo, perché il caro collega reclamerà il suo tempo. A proposito di tempo, una breve introduzione. Anche oggi, come spesso ci capita, abbiamo avuto due approcci al tempo nella nostra professione. Abbiamo avuto delle istantanee riguardanti gli occhi e abbiamo avuto delle modificazioni dell'occhio, che sia la superficie anteriore, il cristallino, nell'arco della vita, mettiamola così. Oggi invece parleremo di qualcosa che riguarda il tempo e riguarda un po' più il movimento, quindi passeremo da delle istantanee, possibilmente a dei video, per spiegare un po' quali sono le proprietà biomeccaniche della cornea e successivamente con il dottor Civero vedremo anche le loro alterazioni. La biomeccanica è qualcosa che noi non affrontiamo di solito, è un termine un po' sconosciuto nel nostro mondo e mi sono affidato alla definizione di un caro dizionario a 12 zampe per spiegare un po' che cos'è la biomeccanica. E come possiamo subito vedere dalla definizione, la biomeccanica riguarda il movimento, ma riguarda il movimento del corpo in realtà, è qualcosa che riguarda tutto l'essere vivente, che sia un umano o che sia un animale. E in cui abbiamo, in questa tabella, forse la prima espressione di quella che è la biomeccanica, a cura di questo Giovanni Alfonso Borelli, quindi già diversi secoli fa, è stato il precursore di quello che oggi chiamiamo biomeccanica. E in questa tavola, nel particolare, credo sia rappresentato l'equilibrio. Ora, partendo dal concetto che è qualcosa che a noi è un po' lontano la biomeccanica, no? Perché l'occhio è vero che ha dei movimenti, però non ha necessità di equilibrio, o almeno pensiamo non debba averla. Ho provato qui a mettere su degli accenti per trovare dei punti in comune con quello che andremo ad affrontare. Quindi abbiamo la fisica e abbiamo la resistenza meccanica dei tessuti, che può essere interpretato in qualche modo come una forma di omeostasi, di mantenimento di un equilibrio. Allora, qualcosina di meccanica, molto velocemente. L'elasticità, non sto qui a spiegarvi l'elasticità, sapete tutti cos'è un elastico, quindi un materiale elastico è qualcosa che alla fine dell'applicazione di una forza ritorna o dovrebbe ritornare al suo stato originale. Poi abbiamo la rigidità, la rigidità è chiaramente all'opposto e quindi la resistenza che oppone un corpo, credo che per rigidità forse sia più opportuno un materiale, all'azione di forze esterne, che provano a deformarlo. E poi abbiamo la viscosità. Viscosità, qualcosa dell'immagine riusciamo a richiamare dalla memoria, ovviamente abbiamo dell'acqua e del miele, e è interessante che solitamente si parla di fluidi per la viscosità. Le particelle di questo corpo incontrano resistenza nello scorrere le uno rispetto alle altre, ma non solo, perché diciamo che forniscono una resistenza diversa anche a corpi che provano ad attraversarle. L'insieme di elasticità e viscosità dà vita alla viscoelasticità. Ora, questo breve video, che forse cercherò di velocizzare, vuole essere anche un invito a fare questo esperimento a casa. Avete bisogno solo dell'acqua e dell'amido di mais, messi in parti proporzionali. Due unità di volume di amido di mais, un'unità di volume di acqua. Come potete vedere, il righello adesso non riesce più a penetrare il liquido, e lo vedremo ancora meglio tra qualche istante con un martello. Ora, questo liquido molto semplice, in realtà, racchiude delle proprietà estremamente interessanti, che sono anche molto difficili da descrivere con dei modelli matematici, ad esempio. La cosa interessante è che un comportamento simile, di certo parimento interessante, è qualcosa che incontriamo anche nella cornea. Ora, tornando un attimo ai materiali viscoelastici, diciamo che si comportano in due modi contemporaneamente. possono comportarsi come un materiale elastico, e quindi, nel momento in cui cessiamo di applicare la forza, tornano al proprio stato originale, o in parte, e inoltre abbiamo quest'ulteriore caratteristica, che il tempo che impieghiamo per deformare questi materiali è minore al tempo che occorrerebbe al materiale per tornare al suo stato originale. Ok, abbiamo detto, vi ho anticipato, la cornea è di natura viscoelastica. Non entriamo troppo nell'anatomia, nella fisiologia e nell'istologia corneale, ma consideriamo le fibrille di collagene, vediamo che hanno una disposizione particolarmente regolare, come è stato appena illustrato, che garantisce alla cornea trasparenza e resistenza. E questo stato, diciamo che viene preservato non da qualcosa di statico, ma c'è una forma di equilibrio, anche elettromagnetico all'interno della cornea, che deve bilanciare tanto la regolarità di queste fibrille, tanto, molto più conosciuto a noi, la sua trasparenza dovuta al fatto che la cornea non è perfettamente idratata, quindi conserva uno stato anidro e per questo spreca delle energie, per continuare ad essere in questo stato. Questo ci suggerisce che la cornea in realtà vive di un equilibrio molto sottile, tant'è vero che una minima variazione di questo equilibrio genera ad esempio un edema. Ok, allora, premesso che questi liquidi sono molto interessanti e sono anche molto difficili da descrivere, è che la cornea fa parte in qualche modo di questa categoria. Come misuriamo queste proprietà viscoelastiche della cornea? Abbiamo due strumenti in realtà, ad oggi sul mercato. C'è qualche prototipo, ma questi sono i due strumenti che ad oggi si possono trovare in commercio, non vengono via con poco, e sono l'Ocular Response Analyzer della Reichert e Dynamic Shenflug Analyzer. Corvis, che sembra un nome, in realtà è una sigla anche questa, è Corneal Visualizer Shenflug Technology. Quindi abbiamo uno strumento che è l'Ora, che è basato su una tecnologia magari più semplice, perché è il primo di questi due ad essere stato immesso sul mercato, e il Corvis è arrivato un decennio dopo, più o meno. Consideriamo che entrambi sono, se volessimo umanizzarli, sono entrambi minorenni, e quindi vediamo un po' come funzionano. Allora, si basano su un principio piuttosto semplice da un punto di vista ottico, proviamo a forzare un po'. Allora, un fascio laser viene proiettato verso la cornea e c'è un ricevitore che continuamente registra l'intensità del riflesso di questo raggio. Ora, chiaramente se abbiamo la cornea nello suo stato naturale, nella sua conformazione naturale, questo raggio verrà disperso e quindi avremo un'energia particolarmente bassa. Che cosa succede? Quando la cornea viene applanata, questo corpo si comporterà come uno specchio e quindi rimanderà verso il ricevitore tutta l'energia, o gran parte dell'energia, che gli è stata inviata. Ma non finisce qui, perché con questo strumento, dopo aver registrato il primo segnale di massima intensità del riflesso, abbiamo che viene continuata questa aiezione di aria, che continuerà ad a planare la cornea e poi inizierà gradualmente a regredire. Quindi questo che cosa comporterà? Comporterà una seconda planazione e quindi un secondo nuovo picco. Tutto questo, ovviamente poi dopo il secondo picco non ci sarà un terzo picco, tutto questo porta a questo grafico. La cosa interessante di questo grafico, spero che qualcuno di voi l'abbia già visto, non è solo il fatto che abbiamo questi due picchi di energia che vengono registrati, ma che tra questi due non c'è coincidenza tra la forza applicata con l'aria e il momento in cui viene registrata questa massima intensità. Questa differenza prende il nome di isteresi, isteresi corneale. Ok, abbiamo solo questo? No, abbiamo la possibilità di studiare queste curve molto a fondo, ma come è già stato detto sarebbe molto time consuming in questo momento, quindi soprassederemo su questo aspetto. Ovviamente la tecnologia va avanti, i modelli evolvono e quindi da questo strumento, nonostante abbia già qualche anno, sarà possibile presumibilmente ottenere delle informazioni sempre più qualitative su questo tipo di analisi. Questi sono solo alcuni dei possibili parametri che si possono estrarre da questa misurazione. non li vedremo. Allora, passiamo al secondo strumento, al corvis ST, quindi abbiamo qualcosa di nuovo adesso, abbiamo la possibilità di visualizzare la cornea in movimento e questo è quello che si vede. se parte il video, ok, vedremo questa flessione della cornea nel momento in cui verrà utilizzato un soffio d'aria. Lo faccio rivedere perché forse è la prima volta che lo vedete. Ok, quindi la cornea si deformerà e poi ritornerà al suo stato originale, anche qui, o quasi. Questi sono i tre parametri che possiamo raccogliere, che non sono tanto diversi da quelli che abbiamo visto prima, ma ci arrivano a questo risultato con due concetti opposti. Lì misuravamo qualcosa di indiretto, in realtà anche qui, però qui abbiamo la possibilità di visualizzarlo. Quindi vedremo la planazione, la vedremo e avremo la possibilità di misurarla, l'estensione di questa planazione. Potremo vedere quanto si deformerà la cornea, fino a che punto, con che concavità e con che escursione. E potremo avere una seconda planazione, così come abbiamo visto prima. Ovviamente anche per questo strumento non abbiamo solo questo. Abbiamo la possibilità, essendo uno strumento che registra immagini in tempo reale, avremo la possibilità di valutare questa area di applanazione e la loro estensione per 140 volte in un secondo. Considerate che un airpuff dura 20 o 30 millesimi di secondo, quindi il valore che abbiamo visto all'inizio di 4.400 acquisizioni chiaramente non è tutto spendibile. E così come abbiamo questo tipo di informazione, abbiamo anche la possibilità di monitorare l'escursione di questa concavità nel tempo. e, breve accenno, abbiamo anche la possibilità di riaggiustare questo dato considerando che l'occhio stesso si muoverà durante il soffio d'aria. Anche qui abbiamo un po' di dati che possiamo tirar fuori da questo strumento, ma non ce ne occuperemo. Ci concentreremo solo su questi due dati per il momento, perché sono quelli che ritroveremo anche nella seconda parte della discussione in letteratura. Questi sono gli unici dati che in questo momento si trovano in maniera più consistente in letteratura. E sono l'isteresi corneale, che come abbiamo già visto può essere identificata come la differenza tra i due picchi della misurazione, differenza che rappresenta la dispersione, la dispersione di energia nel momento in cui andiamo a effettuare la misurazione. è un fattore di resistenza corneale che si basa sulle stesse misurazioni, ma alle quali è stato aggiunto un coefficiente che rappresenta anche lo spessore corneale. E quindi ci dà un'idea più completa di quale sia la resistenza corneale. E con questo vi lascio alle variazioni di questi valori. Bene, buongiorno a tutti. Grazie Alfredo per questa panoramica che hai fatto su quelle che sono le proprietà biomeccaniche della cornea e come si misurano. Io invece mi occuperò di quelle che sono le variazioni delle proprietà biomeccaniche. E partendo dalla... Cosa più semplice, siamo partiti da quelle che sono le variazioni fisiologiche. Bene, cos'è che cambia le proprietà biomeccaniche della cornea? La prima cosa è l'età. È stato visto ex vivo, quindi non su un campione in vivo per l'appunto, che vi è un aumento della rigidità e del modulo di Young, il quale addirittura raddoppia nel passaggio dai 25 ai 100 anni di età. Bene, chiaro, non tutti arriviamo ai 100 anni di età, però comunque vuol dire che con l'avanzare dell'età c'è un aumento della rigidità. Questi dati purtroppo non sono ancora stati confermati in vivo. Il secondo fattore che va a modificare le proprietà biomeccaniche della cornea è, e questo sembra anche abbastanza ovvio, lo spessore corneale centrale. Cioè, se ho una cornea più spessa, dovrò imprimere una forza maggiore per ottenere la stessa modifica. E la cosa interessante è che è stata trovata una correlazione tra lo spessore corneale centrale e l'isteresi corneale, ma non con il CRF, che è il fattore di rigidità corneale. Un'altra cosa molto interessante che è stata fatta sempre qualche anno fa riguarda le variazioni sul ciclo circadiano, cioè sulle 24 ore. E non sono stati notati cambiamenti apprezzabili di isteresi corneale o aumento della rigidità, nonostante una differenza di spessore corneale centrale. Questo perché in realtà la differenza di spessore corneale centrale è dovuta all'edema, quindi al cambiamento del contenuto d'acqua che è fisiologico all'interno di una giornata. L'ultimo fattore completamente fisiologico che è stato analizzato è l'errore refrattivo, quindi in conformità con quella che è la lunghezza assiale dell'occhio in cui ci si aspettava un'isteresi più bassa negli occhi particolarmente miopi dovuti quindi a un bulbo più lungo, a una sclera e a una coroide più sottili, ma in realtà si è visto che l'isteresi più bassa è dovuta semplicemente ad una struttura della cornea diversa e non ad una diversità della struttura della sclera e dell'acoroide. È facilmente immaginabile che in realtà l'ortoceratologia possa modificare le proprietà biomeccaniche della cornea, perché noi andiamo fisicamente a modificare quello che è il profilo della cornea, lo spessore particolare dell'epitelio. Ma è stato dimostrato che in realtà l'ortoceratologia appunto altera le proprietà biomeccaniche specialmente nel breve periodo, cioè si hanno variazioni dopo tre ore ma che portano ad un valore di steresi, quindi a responsi e recuperi più lenti particolarmente nel breve termine. Altre variazioni sono state trovate recentemente nel 2017 tramite un porto di una settimana, però è interessante notare che dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo i valori di resistenza corneale e di steresi tornano ai dati precedenti al porto di lenti a contatto per l'ortoceratologia. È particolare vedere che in realtà per quello che riguarda le lenti a contatto la letteratura offre pochissimi spunti, cioè è stata fatta poca ricerca per quello che riguarda le lenti a contatto più classiche, le morbide o le rigide corneali, ma anche poche in realtà per quello che riguarda le sclerali. Le variazioni maggiori sono state poi comunque attribuite all'edema, quindi a una variazione del quantitativo di acqua, in particolare per quello che riguarda i soggetti miopi portatori di lenti a contatto morbide. Bene, un altro aspetto che chiaramente modifica la biomeccanica corneale è la chirurgia refrattiva. E qui il dato interessante è che la tecnica, una delle tecniche più utilizzate, quindi la LASIK, è quella che causa dei valori di steresi e di resistenza corneale più bassi. Cioè vi è una modifica maggiore di quelle che sono le proprietà biomeccaniche riferite rispetto alle altre tecniche, PRK, LASIK o SMILE. Questo si presume perché si va a creare un flap e questo flap è così profondo e il cambiamento nella cornea è tale che questi cambiamenti poi durano anche per un tempo decisamente lungo. La relazione poi invece tra LASIK e SMILE, cioè quale sia più effettiva sui cambiamenti a livello della biomeccanica, non è chiarissima. Ci sono alcuni studi che propendono per l'ASIK e altri per lo SMILE, quindi dovrà essere poi indagata successivamente. Questo qui, no, purtroppo. Ok, questo video è partito. Questo è un video registrato tramite l'utilizzo del Corvis. Ancora due minuti? Grazie. Come potete vedere la deformazione in una cornea caratoconica è maggiore rispetto a quella in un occhio normale e anche questo è abbastanza prevedibile poiché vi è un assottigliamento e una minore densità di caratociti. Stessa cosa inversa avviene per il crosslinking, cioè con il crosslinking, questa è una cosa estremamente interessante, vi è un aumento della rigidità e del modulo di Young, quindi il modulo di elasticità, quindi ci aspettiamo dei cambiamenti di steresi e di rigidità. Se il video, questo video purtroppo non parte, però se partisse si vedrebbe proprio che la cornea più in basso ha una variazione che è molto simile a quella in alto, quindi quella pre-crosslinking, però vi sono delle perturbazioni nel breve termine che sono nettamente minori. Infine, chiaramente la caratoplastica, sono stati presi in esame la perforante e la lamellare anteriore, quelli della PRK, quindi le variazioni di isteresi corneale e rigidità della cornea sono valori più bassi, quindi vuol dire che è introdotta una modifica maggiore, mentre invece i valori post-DALC sono paragonabili a quelli di occhi sani. Pietro mi sta guardando male, ma ho quasi finito. Per il futuro di questa tecnica, che cosa ci aspettiamo? Che possa predire l'efficacia del trattamento dell'orto-k, che possa predire l'efficacia del trattamento della chirurgia refrattiva, che possa aiutare nella diagnosi precoce del cratocono e che possa essere considerato un fattore per la selezione e il monitoraggio del trattamento del crosslinking. Potrà? Noi pensiamo di sì, ma più che noi la ricerca. Con questo vi ringrazio che me ne devo andare. Grazie.